Ciao a tutti, siamo qui oggi per esplorare i top 10 nemici del testosterone. Il testosterone è un ormone fondamentale per la salute maschile, ma vari fattori possono influenzarne negativamente i livelli. Scopriamo insieme quali sono questi nemici e come evitarli per mantenere la nostra salute in perfetta forma. Lo stress prolungato può aumentare il cortisolo, un ormone che può ridurre la produzione di testosterone. Integrare pratiche di gestione dello stress può aiutare a mantenere in equilibrio questi livelli. Una dieta carente di nutrienti chiave come zinco, vitamina D e grassi sani può impattare negativamente sui livelli di testosterone. Un'alimentazione equilibrata è fondamentale per la salute ormonale. L'obesità è associata a livelli più bassi di testosterone. Mantenere un peso sano attraverso una dieta equilibrata e l'esercizio fisico può contribuire a preservare i livelli di testosterone. Il sonno è cruciale per la produzione di testosterone. La mancanza di sonno può portare a livelli più bassi di testosterone. Assicuriamoci di ottenere un sonno di qualità ogni notte. Il consumo eccessivo di alcol può impattare negativamente sulla produzione di testosterone. Limitiamo l'assunzione di alcol per mantenere un equilibrio sano. Prima di continuare, ti invito a mettere mi piace e iscriverti al nostro canale per non perdere le ultime novità su alimentazione, benessere e cucina salutare. Ora torniamo al nostro video. L'esposizione a sostanze chimiche nocive, come eftalati e xenoestrogeni, può interferire con il sistema endocrino, influenzando i livelli di testosterone. Testosterone Cerchiamo di ridurre l'esposizione quando possibile. Alcuni farmaci, come gli steroidi anabolizzanti e alcuni antidolorifici, possono influire negativamente sui livelli di testosterone. Consultiamo sempre un medico prima di assumere farmaci a lungo termine. La mancanza di attività fisica può contribuire all'obesità e influire negativamente sui livelli di testosterone. Manteniamo uno stile di vita attivo e inseriamo l'esercizio nella nostra routine quotidiana. L'esposizione a inquinanti ambientali come il piombo e il mercurio può influire sulla produzione di testosterone. Cerchiamo di ridurre l'esposizione a tali sostanze. L'invecchiamento naturale porta a una diminuzione graduale della produzione di testosterone. Anche se non possiamo fermare il processo di invecchiamento, possiamo adottare uno stile di vita sano per mitigarne gli effetti. Ecco a voi i top 10 nemici del testosterone. Mantenere uno stile di vita sano e consapevole di questi fattori può aiutare a preservare i livelli di testosterone e garantire una salute maschile ottimale. Se avete domande o suggerimenti, condivideteli nei commenti. È importante notare che la dieta ideale può variare in base alle esigenze individuali e che è sempre consigliabile consultare un professionista della salute per orientamenti personalizzati. Ricordate di lasciare un mi piace se il video vi è piaciuto e di condividere i vostri commenti e suggerimenti alimentari nei commenti. Iscrivetevi per rimanere aggiornati su altri video dedicati al benessere. Vi invitiamo a dare un'occhiata alla descrizione del video. Troverete il link al nostro negozio, dove è disponibile una vasta selezione di prodotti, tra cui grembiuli divertenti, tazze da te, shop bag funzionali e tanto altro per il benessere. Utilizzate il codice SCONTO STARBENE10 durante il check-out e affrettatevi. L'offerta scade presto. Non dimenticare mai l'importanza di una dieta varia e bilanciata per mantenere la tua salute al massimo. Prenditi cura del tuo benessere. Scopri i migliori alimenti per una vita sana. Clicca qui per saperne di più. Grazie per aver guardato e ci vediamo nel prossimo video. Grazie per aver guardato.